Filosofia morale. Con questa etichetta si intende una riflessione sulle azioni degli esseri umani che noi troviamo solitamente nei costumi. Lo studio dei costumi viene condotto dalla Filosofia morale per capire quali sono i costumi buoni e quindi regolativi che devono essere naturalmente distinte dai costumi trasgressivi e che dunque devono essere dagli esseri umani evitati. Purtroppo oggi il costume lo fa il messaggio pubblicitario, il buon costume e il cattivo costume. Una riflessione dunque sui media è ciò che oggi soprattutto importa per un'orientazione critica quanto alla vita nel mondo. Un filosofo morale non è che debba stare al servizio del linguaggio dei media, deve criticare il linguaggio dei media che è profondamente inquinato da fini che non sono propriamente quelli della fioritura degli esseri umani, ma piuttosto quelli delle modalità di far denaro. Bisognerebbe poter decretare i messaggi dei media in maniera tale che essi non appaiano dei persuasori occulti di cattivi costumi. Si può fare un esempio positivo di ciò che i media veicolano e questo io lo indicherei nelle campagne pubblicitarie che ogni anno accadono, quelle targate pubblicità progresso, per esempio campagne contro i morti sul lavoro, campagne contro la fame, mentre per esempio negativi che sono la stragrande maggioranza sono quegli esempi in cui l'ascoltatore, il destinatario del messaggio viene indotto a comprare prodotti di ogni genere con l'illusione che questi siano una veicolazione rapida della felicità. Solitamente il sistema capitalistico non amministra la gratuità, amministra lo scambio in funzione sempre del profitto, tutta la massa pubblicitaria orientata in questa maniera, sotto appunto la veste dell'offrire qualcosa gratis, lavoriamo sempre per voi. La filosofia morale potrebbe aiutare tutti a capire la falsità di questa forma di linguaggio e quindi a stimolare tutti alla costruzione di un linguaggio più diretto e più vieritiero quanto alle cose della quotidianità. Grazie. Grazie.